Buono il segnale con Vamos P attaccato subito da Quincy Frontline che insiste nella sua offensiva sulla piegata, passa a condurre Quincy Frontline dunque su Vamos OP mentre deve ritrarsi acqua tinta Font che ripiega in coda, intanto guida Quincy Frontline dopo i primi 250 metri di gara in seconda posizione di Vamos OP, gli altri più discosti con la progressione di Annie Pan che si trascina acqua tinta Font in terza posizione alla corda invece rimane Eclair Magic, ha preso posizione anche unica, Kajemar se ne va intanto in 31 i primi 400 metri cavalli che arrivano così a completamento dei 600 con Quincy Frontline che li percorre in 46,7 all'esterno si impegna Annie Pan con alla corda Vamos OP, all'argo acqua tinta Font, cavalli che hanno completato il giro in 1,1 e 2 c'è stato un 14,5 ora di parziale e siamo sulla curva che porta al completamento del chilometro insiste Annie Pan su Quincy Frontline ha contato Vamos OP, all'argo rimane acqua tinta Font con in schiena unica Kajemar, poi Eclair Magic lungo la corda in terza posizione a precedere a Stecca Dimar mentre il gruppo è chiuso da Judith Dock che ha preso l'ultima pariglia esterna, intanto manca un giro alla conclusione sempre leader Quincy Frontline, Vamos OP in seconda posizione, poi Annie Pan percorsi esterne con in schiena acqua tinta Font, cavalli a 600 dalla conclusione, si mantiene in vantaggio Quincy Frontline su Vamos OP, insiste Annie Pan, trascinandosi acqua tinta Font e unica Kajemar che tenta l'avanzata in terza ruota ma intanto allunga ancora Quincy Frontline, Annie Pan sempre lì a contatto Vamos OP che aspetterà l'open stretch, poi acqua tinta Font, metà della curva finale superata con in allungo Quincy Frontline, Vamos OP in seconda posizione, Annie Pan ancora all'esterno retta d'arrivo con Quincy Frontline in vantaggio, Vamos OP che ha due lunghezze da recuperare nel finale, si allunga bene alla corda Quincy Frontline per reggere bene il tentativo di Vamos OP che è secondo, terzo posto per Eclair Magic, 1.15.7 sul doppio chilometro con partenza da fermo alla vittoria per Quincy Frontline e Marcello Di Nicola che si aggiunga quindi 10 punti che lo portano a quota 14 dopo la penultima prova, c'è ancora una prova disponibile quindi andremo dopo a fare i conti per la classifica, intanto diciamo che Quincy Frontline vince con Marcello Di Nicola per conto di Emanuele Ossani e Nicola Venturi per conto del signor Andrè Farrugia. Grazie a tutti.